Dove andranno i mercati a dicembre del 2022? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un video un po' dedicato a quelli che sono le oscillazioni grafici per il breve termine, il breve periodo, cioè per il mese di dicembre del 2022. Abbiamo avuto dei dati importantissimi la scorsa giornata quando Powell ha dato delle indicazioni di raffreddamento della politica restrittiva della Fed, ma questo ce lo aspettavamo, ve lo avevo accennato nel precedente video, e questa questione qui, questo Bitcoin ragazzi, ha innescato un super pump di Nasdaq che in una singola giornata si è sparato un bel 4%, questa che vedete è la super giornatona verde in questo caso. Questo atteggiamento della Fed era un po' scontato, l'avevamo visto un po' nei dati anche quelli che erano legati all'aspettativa dei mercati relativi al rialzo dei tassi, vi faccio vedere anche questo dato. Eccolo qui ragazzi, avevamo visto proprio questa tabella dell'aspettativa per il prossimo PONC per il rialzo dei dati che adesso si attesta all'80% alla 0,5, non 0,75. In pratica, tutto quello che avevamo detto nel video proprio di quella giornata lì si è andato a verificare, era un po' scontato per chi conosce la macroeconomia e chi ha scrivato queste cose, perché insomma c'era una serie di dati statistici, quindi una specie di autocollo, diciamo così, di colla a porta vuota. Allora, nel momento in cui abbiamo questi dati, a questo punto possiamo fare un'analisi su quello che è possibile fare nel mese di dicembre e il fatidico rally di Natale di cui vi sto sbattendo la testa da un mesetto, sono l'unico in pratica che ha detto una cosa del genere e come sempre scontrarsi contro il mercato non è mai facile, quindi ragione o non ragione irrilevante, è una questione solo e unicamente di dati che in questo caso ci indicavano alcune possibilità, possibilità che su alcune cripto si stanno verificando, ma è possibile che questi rialzi dei mercati potrebbero continuare anche nel mese di dicembre, andiamo a fare una super analisi, Ethereum, Bitcoin, Nasdaq e qualche cripto così, un po' sparsa. Andiamo subito. Bene inizio proprio da Nasdaq 100 ragazzi e questo è il grafico di Natura Daily, quindi Nasdaq è rimbalzato tantissimo, si è andato a scontrare contro questa super livello di resistenza e si è fermato. Il minimo del 13 di ottobre, in questo caso per quanto riguarda Nasdaq, in shadow è un minimo rilevante, ma se andiamo a guardare invece le close del mercato, il minimo vero è il 3 novembre, quindi questo è anche un'altra cosa abbastanza significativa che purtroppo andrà assolutamente tenuta in considerazione anche per alcuni aspetti di natura ciclica, se così possiamo dire. Ora, nei mercati classici, non le cripto, le shadow sono importanti, questo però è un CFD, quindi bisognerebbe andare poi a fare un po' di analisi successive, non che comunque nella giornata del 3-4 di novembre non faccia in ogni caso un minimo, un piccolo minimo, quindi potrebbe essere questa la struttura di Nasdaq. Se non che ragazzi, da un punto di vista di cicli, siamo ancora probabilmente in una fase di definizione di questa struttura ciclica, è un po' variegata, ma non volevo parlare di cicli oggi, bensì proprio di analisi, di tecnica e quindi livelli, livelli, livelli. Questa zona qui è una zona di resistenza. Nasdaq c'è, è andato a sbattere dopo il rialzo del 4%, poi è leggermente sceso, ieri ha fatto questo minimo, questa candela qui, poi oggi ha breccato, ha fatto la sua fase di ribasso. Tutto coerente, questo recupero però che sta avendo proprio nella giornata di oggi, lascio ben sperare per il procedo della prossima settimana, che potrebbe a questo punto essere una settimana che va a toccare questi livelli di massimo e a breccare questa fase qui. Tutte e due questi livelli sono aree di resistenza nel breve periodo. Ora, se andiamo a ragionare in termini appunto di breve periodo e quindi cerchiamo di capire cosa potrebbe fare da qui a dicembre, quello che dobbiamo andare a guardare sono grafici di natura settimanale e mensile per capire un po' come è strutturato questa fase. Quindi avremmo qualche candela, in pratica nel mese di dicembre le candele saranno queste qui, questo lasso temporale in termini di settimana. Cosa potrebbe succedere ragazzi? Questo livello di minimo che è assegnato nella settimana attuale, che è un minimo a 11.400, diventa a questo punto un minimo molto rilevante da non rompere nelle prossime settimane. Se tiene questo minimo, e credo che lo farà, Nasdaq potrebbe andare nelle prossime settimane proprio già nella prossima a tentare di breccare invece questo livello di resistenza. Badate bene che secondo me non è un livello di resistenza unico, ma un'area di resistenza che è questa. Breccata questa fase potrebbe andare a fare il pump famoso, quello che collega il famoso rally di Natale, che comunque i mercati stanno avendo, anche se è molto ridotto, quindi molto piccolo rispetto ovviamente a quello che si poteva sperare, ma vediamo come va a finire, ma comunque non credo che ci saranno risvolti epocali da questo punto di vista. Penso che il mercato vada a riflettere un po' l'andamento rialzista, però senza grandi impulsi. Questa zona in particolar modo di 12.700 potrebbe essere un punto di arrivo di Nasdaq proprio dell'intero mese di dicembre. Questa è una zona che potremmo anche tenere a mente, per esempio, se avete delle posizioni di trading aperte nel breve periodo sui mercati. Vi faccio vedere le mie così vi faccio sorridere per l'ennesima volta, perché quando vi ho detto ovviamente che avremmo fatto, diciamo, avrei tentato di gestire il famoso rally di Natale, sono entrato poi lungo su una serie di operazioni. Queste sono le operazioni che ho aperto ragazzi proprio in vista di questo rally di Natale, che stanno attendendo una close proprio in base a quello che vi sto dicendo io stesso nel mese di dicembre, poi andrò a chiudere. Questa operatività è esattamente come da attese, insomma, nel fatto che vadano chiuse in termini di trading e non sono operazioni lunghissime. Poi se il mercato dovesse deliziarci di altro ci mancherebbe. Allora, intanto, vabbè, ci sono ROI che sono assolutamente stellari qui, 600%, 300%, ma perché sto usando una leva abnorme ragazzi? Quindi ricordatevi che questa cosa la uso solo perché non voglio mettere tanto capitale sull'exchange, anche per vista, in via di, in vista di quello che è successo a FTX e quindi sto tra l'altro utilizzando da un paio di mesi BigGet e quindi non conosco bene tante cose, quindi sto attendendo ancora che facciano la propa reserve, dovrebbe arrivare in settimana, così mi è stato detto e quindi in ogni caso non mi piace depositare tante somme, quindi utilizzo la leva, ma la leva è solo perché ho il capitale depositato sul mio wallet privato. In ogni caso vi lascio il link in descrizione di BigGet, ragazzi, se mi volete uno sconto di 10%, volete provare questa piattaforma che è molto utile in termini di strumentazione, un po' confusionali da certi punti di vista, devo approfondire la questione anche dei subaccount, ma ho in procinto l'idea di fare un super video di cosa usare ragazzi, post FTX che ovviamente ci può stare, vabbè. Allora queste operazioni andranno proprio ad essere, a prendere in considerazione questa area che vi stavo dicendo qui, quindi se anche Nasdaq dovesse arrivare in questa zona, questa zona potrebbe essere un eccesso nella fans proprio di Natale, che potrebbe indicarci, i giochi sono fatti, i rally di Natale è questo, lo so più di quello, chiudiamo, portiamo a casa il profitto, semplicemente mettiamo un super trailing stop e magari ci portiamo a casa un profitto. Quindi quanto è la questione in termini di possibile pump di questa zona? Se noi lo consideriamo da questi livelli un più 6% da fare nelle prossime 2-3 settimane Nasdaq, lo può fare con grande tranquillità. A questo punto probabilmente Bitcoin ed Ethereum potrebbero seguire. Andiamo a vedere la situazione notevolmente diversa dopo la catastrofe della settimana del 7 di novembre su Bitcoin e andiamo a cercare di capire da un punto di vista proprio di eventuale pump quali sono i livelli di resistenza, perché Bitcoin è estremamente più delicato in questa fase, lo vediamo anche su Ethereum, poi mostro un paio di cripto che sono quelle che abbiamo proprio qui in portafoglio ragazzi, tra cui il link in particolar modo e anche Uniswap. Ve li faccio vedere tra un poco per quella tipologia di operatività. Allora questa struttura come vedete questa settimana di Bitcoin che nonostante fa un più 3% è una settimana di un mero rimbalzo senza grandi vivacità, così possiamo dire ragazzi. Ora tendenzialmente da questo minimo è con grande probabilità iniziata una nuova struttura ciclica di Bitcoin che dovremmo andare poi a definire, è probabilmente un nuovo mensile. Questo mensile naturalmente porterebbe alla fine del mese di dicembre e ai primi di gennaio eventuali, vedete, questa zona di chiusura. Ciò significa che le prossime due settimane potrebbero tranquillamente essere di pump proprio per il mercato delle criptovalute, quindi fate molta attenzione in questa fase. Il trading di brevissimo, un intraday, andare in short selling potrebbe essere interessante se magari il mercato va a ritracciare alcune cose, mi aspetto un leggero ritracciamento per una strategia che usiamo in Academy a livello mensile, ma il ritracciamento che il mercato stenta appare almeno in questi giorni, vediamo però domani dopo domani che solitamente i mercati chiusi magari sono un po' più deboli. Però da lì in poi, ragazzi, ancora una volta, se siamo su un nuovo mensile e se Nasdaq prosegue la via del rialzo, probabilmente Bitcoin seguirà e in questo caso potremmo avere delle occasioni di trading di breve periodo per un paio di settimane sia su Bitcoin ma soprattutto sulle cripto che vedremo tra un po'. Questo scoglio però, cioè i 18.000 dollari ragazzi per Bitcoin, sono molto duri, ve lo dico. È un 5% dagli attuali prezzi, quindi non è tantissimo. Purtroppo però quello è un livello estremamente importante per Bitcoin perché rappresenterebbe il pullback della precedente area che aveva tenuto i prezzi per tanto tempo al di sopra. Quindi questo livello, questo qui ragazzi, è un super livello di supporto per Bitcoin che ora è diventato un super livello di resistenza. E questa cosa qui va presa in considerazione perché tantissimo tempo i prezzi sono stati, vedete, al di sopra di questo livello di supporto, 147 giorni prima di crashare in pratica. Detto questo, cosa significa? Che probabilmente questo livello di 18.000 sarà difficile per Bitcoin da battere e che quindi Bitcoin è come se fosse cappato da un livello di resistenza che non gli lascia molto fiato. Ma, ma, ok, se questo livello venisse per caso breccato in close, almeno in chiusura di una candela daily, allora lì ci sarebbe uno slancio superiore che lascerebbe al mercato cripto un vero rally di Natale, per quanto noi siamo abituati magari al mercato cripto a vedere numeri stellari, però sicuramente un maggiore impatto potrebbe esserci in termini di addamento perché questo è un respiro, chiamiamolo così, se dovesse breccare, vedete, quest'aria potrebbe tranquillamente riportarsi in questa zona intorno ai 19.000-20.000 e questo configurerebbe dagli attuali prezzi un più 17% che nel caso attuale di Bitcoin potrebbe andare a configurarci anche una candela verde in termini mensili, vi la faccio vedere qui, questo è il grafico mensile di Bitcoin, che potrebbe ritracciare un pochetto proprio questa zona qui ragazzi, alla fine sarebbe un semplice ribalzo anche quello, ma è un 20% su un mercato come quello delle cripto in una fase di magra come quella attuale, porterebbe magari un più 30, più 40 su alcune altcoin e magari aiuterebbero tantissimi a recuperare una buon parte magari di quanto farlocamente rubato dal fallimento dell'exchange FTX. Allora detto questo è possibile una cosa del genere? Assolutamente sì, ma lo scoglio rilevante è questo, 18.000 ragazzi, quindi intanto lo vedremo probabilmente nelle prossime settimane una cosa del genere, cioè già dalla settimana prossima Bitcoin dov'è superare gli attuali massimi che sono a 17.335 di questa settimana e puntare diritto a questo livello di 18.000 e poi da lì si vede di che pasta è fatto questo rialzo. Andiamo a vedere Ethereum, ma su Ethereum invece di mostrarvi il grafico di Ethereum vi mostro un altro grafico che è quello della market cap di Ethereum, total market cap, perché mi è venuto in mente che forse vista la questione legata ad Ethereum che sia insomma dopo il post merge è interessante andare a valutarlo da questo punto di vista, quindi andiamo a vedere anche la total market cap che in effetti magari assume un atteggiamento un po' più naturale di andamento rispetto ai prezzi che erano completamente diversi e vi fa vedere come la distanza, vedete, magari dal minimo del premerge al minimo successivo del merge non sia così tanto diversa in close. Vedete ragazzi la differenza è del 7%, non è poco, però in linea di massima non è tanto diversa, quindi potrebbe insomma anche configurarci una fase insomma di chiusura, anche qui ovviamente è tutto dipendente dal fatto che Ethereum ha cambiato radicalmente la sua struttura post merge. Allora su Ethereum ci sono delle cose diverse da andare a valutare, intanto il livello di supporti hanno tenuto tutti perché Ethereum ha un livello di supporto che è questo qui che è molto molto rilevante e poi il successivo che era questo che è stato vedete breccato e poi recuperato, quindi in pratica ha indicato che questo livello di supporto non è del tutto un'area di supporto ma è bensì un'area di oscillazione, quindi un prezzo di equilibrio. Andiamola a vedere così cerchiamo di capire questa fase qua, cioè questa zona della market cap che è circa 145 bilion, 144 bilion e una zona di oscillazione, ovviamente stiamo guardando total market cap e non prezzo ragazzi, quindi non possiamo fare trading sulla total market cap, sennò che l'area di fluttuazione che doveva raggiungere i minimi dei cicli annuali era stata già toccata anche in questa zona di giugno, ma è stata ritoccata proprio in quest'area qui, questa è una vecchia area che avevo disegnato un po' di tempo fa. Detto questo ragazzi, la struttura in questo caso ci porta ad avere la possibilità per Ethereum di slanciarsi un po' di più rispetto a Bitcoin perché non ha effettivamente dei livelli di resistenze molto importanti. Vi faccio vedere queste aree qui, però a me questo grafico serviva solo e unicamente per farvi vedere come in effetti Ethereum già in queste settimane, intanto ha fatto anche di più questa settimana perché qui abbiamo un rialzo della total market cap del 7% perché in questo caso c'è anche il fatto che Ethereum è diventato deflazionario rispetto alla precedente panse e qui ragazzi nulla vieta ancora una volta di poter breccare questi livelli e magari tentare nella prossima settimana ancora un rialzino. sta cercando di recuperare spazio all'interno di questa candela, candela che risulterà ingestibile in pratica nei prossimi mesi e che sarà effettivamente poi il vero ostacolo. Quindi come vedete qui la ripresa vera che arriverebbe solo e unicamente al superamento di questi livelli di total market cap necessita di un recupero di oltre il 30%, ciò significa che in pratica è difficilissimo che avvenga e per una cosa del genere ci vorranno sicuramente dei mesi. È vero che i mercati crypto ci hanno abituato negli anni scorsi magari a fare chissà cosa ragazzi ma non è secondo me un po' questa la fase attuale. Andiamola a vedere invece anche sui livelli di prezzo e anche qui più o meno è confermata la questione sul grafico settimanale che le prossime due settimane di Ethereum potrebbero essere migliori di Bitcoin proprio se questo livello dei 1300 verrà breccato incluso almeno daily ragazzi va bene? Quindi questo livello di 1300 risulta il suo livello di resistenza. Un break di questo livello porterebbe al successivo livello di resistenza che è 1412 con una distanza non altissima intorno all'8% solo e unicamente il break di 1400 qualcosa da uno slancio veramente da recupero notevole perché ci porterebbe vicino quest'altro livello che sono i 1580 quindi solo e unicamente il breakout di questa zona poi ci fa lo slancio del 20 punti percentuali però questo spazio ragazzi super giù ovviamente non precisissimo ai 20 punti è uno spazio che i mercati potrebbero tranquillamente aggredire proprio nelle prossime settimane qualora i 1300 per Ethereum venissero breccati in close e qualora i 1800 di Bitcoin venissero anche loro breccati successivamente portando uno slancio più importante. Andiamo a vedere le ultime cripto che vi avevo promesso che sono Uniswap e Link. vediamo prima Link che è una delle mie preferite è quella che mi sta facendo fare un super profitto anche in questa operazione siamo a 540% ma a prescindere insomma a me interessa il valore non della leva finanziaria ma interessa il valore dell'ingresso e dell'uscita perché tanto in termini astruti poi il profitto è sempre quello quindi un profitto con un'operazione di training che dovrebbe concludersi appunto nel mese di dicembre quindi entro qualche giorno ormai l'avevamo fatta proprio per il rally di Natale. Questa questo questa cripto ragazzi è estremamente interessante perché ha una barra di congestione notevole ed è una barra di congestione stupenda ve lo dico proprio in maniera molto semplice perché Link è stato un progetto di altissimo profilo perché senza gli oracoli non esiste niente nella DeFi in pratica ma al di là di questo un break di questo livello qui 9 dollari per Link sancirebbe proprio un'inversione di medio periodo almeno e questo indicherebbe un grande 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 spazio. Se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane questa cripto dovesse continuare abbreccando questo livello ad avvicinarsi a questo che è il suo livello di resistenza vedete ha già 20 punti di spazio quindi soltanto per fare un touch del prossimo livello di resistenza ci sono 20 punti. Non è detto che ci vada perché di solito i mercati non sempre vanno a toccare i livelli di resistenza estremi di una barra si possono fermare anche prima però lo spazio nella prossima settimana di stupire un pochettino magari andando in questa zona anche Link ce l'ha. Dipende tutto come dicevo secondo me anche da Nasdaq e dalle prospettive dell'indice americano. In questa zona vedete siamo già un più 10 che non ci fa per niente schifo. In questa fase lo so che magari siete abituati in maniera differente ma vi assicuro per trading anche con un minimo di leva ragazzi si fanno i rendimenti di un anno in una settimana quindi questo in questo caso diciamo è molto utile. Poi al di là di tutto ragazzi dovessi veramente avvicinarsi qui io poi attenderei perché insomma tutto può succedere solo su questi mercati però Link in questo caso è molto interessante. Attenzione soltanto che è arrivata nella zona centrale quindi potrebbe anche decidere che basta così per questo impulso che era partito proprio da qui ed era molto interessante anche per questo e se dice basta così niente dobbiamo poi prendere profitto alla versione di trading ma io la prossima settimana attenderò magari la rivediamo insieme proprio questa crypto per vedere appunto che cosa sta succedendo. Poi andiamo a vedere l'altra che vi avevo promesso che era Sushi perché Sushi l'ho aperta da poco e non è quella che non sta facendo profitto in questa fase perché l'ho aperta perché sulla struttura del grafico daily c'era stata una fase di breakout interessante mi piace lavorare in pre breakout sulle crypto ed è effettivamente quello che è avvenuto quindi in pre breakout qui ha fatto il breakout è salita poi sta facendo i pullback. Ora non mi andava di prendere profitto qui perché non aveva molto senso in quanto era poco e quindi insomma che non era quella l'operazione. L'operazione è che questo livello di price possa riavvicinarsi in questa zona se lo fa perché anche Sushi ha una specie di superbarra come quella di Link è un po' diverso la questione del progetto perché questa criptovaluta è un po' particolare il progetto DEX di Sushi è un po' trasandato, malandato però questa è speculazione ragazzi quindi quando facciamo speculazione in ambito di trading non ci porta più di tanto che cosa sta succedendo in termini di progetto perché tanto chiudiamo entro qualche settimana. Questa quindi fase io l'attendo perché voglio vedere se la prossima settimana riesce a recuperare questa zona attenzione perché se riesce a recuperare qui ha tutte le carte per breccare il suo livello di resistenza che a questo punto è posizionato sui massimi di un paio di giorni fa, interessantissimo quindi questa zona e se lo fa 1000, 1000 sentite me, 1,49 se lo fa può puntare in questa zona qui 1,70 a quel punto ancora una volta quest'area diventerebbe un'area di chiusura della operazione di trading che avete visto. Allora vi ho detto un po' quelle che sono le possibilità per il mese di dicembre, i livelli da tenere a mente sono su Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, Ethereum 1.300, Bitcoin 1.800, la super resistenza e Nasdaq la zona dei 12.100 circa per arrivare massimo a 12.600 e se fa un guizzo del genere io inizierò a tentare di prendere profitto anche sull'operazione di trading. Dicembre che se conclude in una situazione del genere sarebbe il famoso relli di Natale che si va a completare, vedremo se accadrà una cosa del genere ragazzi e certo è che le cripto in questo momento sono un pochettino dietro, un po' down, si sentono un po' maltrattate dal mercato, vediamo se riusciranno a riprendere forza perché poi alla fine ragazzi tra il giorno e la notte veramente basta solo che passi un minuto. Ciao a tutti ragazzi!